In Consiglio Comunale si costituisce il gruppo della Lega e ad Angri scoppiano le polemiche. Crisi in maggioranza. L'assessore Roberto Falcone ha deciso di gettare la spugna e di dimettersi lanciando duristrali all'indirizzo del sindaco Cosimo Ferraioli. Il primo cittadino dal canto suo si mostra sereno e non teme altre ripercussioni. Prendo atto delle dimissioni dell'assessore Falcone per una serie di motivazioni ben dettagliate nella lettera di dimissioni. La costituzione di un gruppo consigliare non preclude la possibilità di un'altra costituzione. Sono convinto che sia una naturale modifica delle condizioni di assetto iniziale. È un'esperienza che stiamo portando avanti, forse è la prima amministrazione costituita con le specifiche. c'è una evoluzione, una dinamica notevole nel panorama politico. Far finta che non ci sia uno smosi, uno scambio tra la politica nazionale e anche quella locale, nonostante ci sia ovviamente una differenza fondamentale, è una ipocrisia. Onestamente questo discorso dell'appartenenza e della costituzione dei gruppi politici di riferimento nazionale interessano, almeno a me, molto poco. Perché amministrare localmente non ha alcun legame con le appartenenze politiche di livello nazionale, visto anche le dichiarazioni e i fatti che vanno in questa direzione. Cioè se un gruppo politico in Consiglio Comunale si dichiara appartenente alla Lega, piuttosto che al Partito Comunista Italiano e poi giura fedeltà all'amministrazione e ai programmi, non c'è alcuna conseguenza rispetto a questo. Quindi vuol dire che c'è l'interesse soprattutto per l'amministrazione di questa comunità. La posizione di Falcone è l'unica critica o forse no? Ieri c'è stata anche una riunione di maggioranza. Insomma che clima c'è? Se lei insomma teme che in qualche modo questa possa provocare degli scossoni anche un po' più pesanti? C'è stata una riunione di maggioranza la quale ha ribadito la fiducia all'amministrazione e al sindaco, per cui salvo sorprese dell'ultimo momento tutto prosegue e tutto continua. Qualcuno è lo stesso Falcone, neanche tanto tra le righe nella sua lettera, lascia intendere che forse dietro tutto questo possa esserci proprio lei che abbia in qualche modo guidato questo processo? Poi ciascuno fa le proprie illazioni, ha le proprie convinzioni e io non devo e non posso neanche giustificare per cose che non faccio. Insomma ormai questo è diventato uno sport abbastanza praticato, io non mi devo giustificare di nulla. Sono il sindaco di questa amministrazione che è, come dire, variegata, è molto eterogenea, lo è stato fin dall'inizio, ma certamente non sono, non ho provocato, nel senso che non ho guidato, non ho chiesto, non ho fatto nascere, insomma è tutta una cosa all'interno del gruppo di consiglieri, probabilmente non sarà neanche la sola, voglio dire quindi, ma certamente non è una mia creatura. Ma lei non aderisce alla Lega? Ma non ho aderito e non aderisco, non è la mia propensione, diciamo. Sul fronte della Giunta ora potrebbero esserci novità, si prepara una nuova rimodulazione? Ma già la dimissione e le dimissioni dell'assessore Falcone ovviamente in qualche modo dovranno dar luogo a delle sostituzioni o almeno a una rimodulazione della Giunta. Lei che viene, diciamo, da una formazione di centrosinistra, ha militato in partiti di centrosinistra, come vive ora questo rapporto con la Lega? Eh, questa è una bella domanda. Io prendo atto dell'evoluzione della società in una determinata direzione, della complessità della rappresentanza politica a livello nazionale, del fatto che i partiti di sinistra, secondo me, ad oggi pur avendo avanti un'autostrada, una prateria da percorrere perché le esigenze che vengono dal popolo sono evidenti rispetto ai diritti sociali acquisiti e tolti in 30 anni di governo di destra e di sinistra. Magari in cambio di un potere che altrimenti non avrebbe avuto bisogna fare una autocritica. Non è pensabile un atteggiamento come quello, per esempio, dico per dire, per carità, forse perché è il più rappresentativo del partito maggiore di centrosinistra, il quale praticamente continua ad incolpare gli elettori del fatto che non votano più il partito. È un atteggiamento assolutamente incomprensibile. Io credo che chi si rispecchia nei valori della sinistra oggi è in grande difficoltà. Non ci sono partiti, o almeno non mi sembra di vedere, appunto, tranne il Partito Comunista Italiano o in qualche modo forse qualche altra formazione proprio perché non c'è questa unità, c'è una frammentazione notevole. Per chi appartiene a ideali di sinistra diventa molto difficile vedersi rappresentato oggi. Sì, ma con la Lega lei avrà un rapporto... In amministrazione non avrà il peso della Lega con i suoi temi che ha a livello nazionale? Assolutamente no, perché è stato già detto in Consiglio Comunale che i componenti del gruppo consigliato della Lega hanno soltanto a cuore le sorti dell'amministrazione, seguiranno il programma dell'amministrazione, per cui a me che siano Lega o che siano appunto Partito Comunista Italiano non fa alcuna differenza.